Per quanto riguarda l'area del partito che si riconduce a quella che è l'area dell'ex Forza Italia, non c'è nessun tipo di spaccatura con nessuno, c'è un progetto di cui noi siamo responsabili essendo direttamente incaricati di attuarlo dal Presidente del partito, quindi da Silvio Berlusconi e dal coordinamento regionale che lo scorso lunedì ha partecipato a questo momento ufficiale che abbiamo organizzato, la Cina della Libertà, alla quale ovviamente abbiamo invitato tutte le figure che nel nostro partito, dai dirigenti a chi elette militanti si ritrovano, è stata veramente una grande e bellissima serata a livello anche di momento di aggregazione, un ritrovato entusiasmo, il Presidente Berlusconi si è collegato telefonicamente direi sentendo quello che è un'ufficialità del nostro percorso.